In questo momento bisogna accelerare con la campagna di vaccinazione, ma anche prevedere delle adeguate misure per limitare il contagio con le nuove varianti. Ma è fondamentale dare dei ristori alle famiglie, alle imprese e ai laboratori. Ci sono 32 miliardi che sono fermi a causa della crisi causata da Renzi e che vanno subito utilizzati.